benvenuti in questa video lezione oggi vedremo i metodi di colore un pannello da prendere in considerazione per la colorazione delle nostre grafiche e il pannello guida colore che questo qui in modo predefinito quindi in genere viene inserito all'interno del gruppo colore ma come ben sapete possiamo trascinarlo fuori e quindi gestirlo separatamente guardiamo ora in che modo guida colori lavora parte sempre da un colore selezionato questo colore è stato selezionato dalle palette dei campioni dei colori e ci mostra alcune variazioni di questo colore sulla base di algoritmi particolari quindi se risederiamo per esempio colorare con un colore rosso andiamo a scegliere un colore ecco scegliamo questo colore rosso lo selezioniamo quindi dalle palette in modo automatico vediamo che nel pannello guida colori appaiono tutte le tonalità e le variazioni possiamo ora modificare le impostazioni diverse dell'armonia dei colori per esempio possiamo selezionare complementari ecco vedete e quindi avrò avrò una tonalità diversa quindi scale diverse di rossi possiamo anche stabilire e quindi vedere altre impostazioni di scale di colori per esempio lavorare con complementari due oppure due tonalità tre tonalità e quindi variare variare in base in base a quello che effettivamente in questo momento ci può interessare quindi notiamo sempre le altre variazioni ovviamente ovviamente si lavora sempre partendo se notate dal colore selezionato oppure possiamo selezionare quindi altri criteri che ci possono interessare ora una volta che abbiamo stabilito il criterio da utilizzare possiamo selezionare ogni singolo colore quindi ogni singolo colore può essere selezionato e se questo colore quindi questa tonalità non è inserito all'interno delle palette possiamo direttamente trascinarlo per esempio trasciniamo questo qui questo verde ecco lo trascino e lo inserisco all'interno delle palette colori questo servirà servirà per poterlo utilizzare poi successivamente e quindi all'interno delle palette campioni avremo tutte le tonalità che abbiamo memorizzato e quindi che abbiamo inserito per poterle utilizzare per la nostra grafica ma addirittura possiamo anche selezionare una riga intera per poterla inserire all'interno dei campioni vediamo selezioniamo questa ecco si seleziona cliccando il primo la prima tonalità il primo colore con il mouse quindi il pulsante sinistro del mouse tengo premuto il pulsante shift della tastiera e clicco sull'ultima tinta come vado a memorizzare ora questa intera riga all'interno dei campioni cliccando su questo pulsantino ecco nel momento in cui io clicco su questo pulsantino notate che tutta la riga si memorizza all'interno dei campioni poi ancora mantenendo sempre questo criterio scelto possiamo decidere per esempio di mostrare i colori caldi e freddi ecco che si fa da qui ecco questa è una tonalità calda e fredda sempre sulla base sulla base del criterio scelto oppure ancora possiamo visualizzare i colori vivaci e delicati è normale che ogni volta che scegliamo un'impostazione diversa otteniamo quindi anche dei risultati differenti sulla base sempre della saturazione del colore che abbiamo scelto in precedenza poi dal menu opzioni guide colori ecco possiamo settare la variazione quindi per per ottenere dei colori differenti vedete quindi possiamo dare una percentuale di variazione per avere delle tonalità differenti ancora possiamo settare i passaggi cioè il numero di campioni che vengono visualizzati all'interno del pannello guida colori quindi il minimo è 3 vedete però posso aumentare per avere una maggiore per avere più tonalità differenti del criterio scelto ecco possiamo fare ok andiamo ancora a scegliere vedete tonalità calda e fredda e magari un altro colore per vedere la differenza andiamocene sul verde ecco e andiamo a vedere tutte le variazioni che di saturazione che questo colore mi dà in base quindi a questi criteri scelti ecco questa scelta è la tonalità analoga quindi tonalità simili uguali ecco qui ecco qui